Ma dai cacchio, datti tempo, fai così, fai così, fai così, fai così, fai così, però ferma così, magari cerca di integrarti in mezzo al gruppo Marco, però che pizza aspettare queste pizze, ragazzi ho una fame che non ci vedo, e io invece sai che faccio, mi vedo The Forgotten, ma dai, un intero film sul videofonino Eh certo, grazie a tre, mi guardo The Forgotten dove e quando voglio, entro in pianeta tre, clicco l'icona cinema, ecco, guarda Non avrei mai creduto No, lui ha cancellato i lastri, mi ha fatto trovare degli album vuoti, come fa a credergli, sembro cresciuto fino a nove anni, nove, nove anni di ricordi, com'è possibile? Ricordi inventati Ah ah, The Forgotten, che storia coinvolgente, Julian Mora è bellissima, ma si freddano le pizze Eh giusto, continuiamo a vederlo dopo, tanto con tre puoi interrompere il film quando vuoi e lui li vedi poi dal giatto punto dove l'ha lasciato E poi ci sono tanti film tra cui scegliere, decine di titoli, Itch, Layer Cake, Spanglish, oppure i grandi classici come incontri avvicinati da terzo tipo, Easy Rider, Charlie's Angels Vedo il cinema sotto una luce nuova Se hai tre, si vede Doric Rendoria, la bontà dipende sempre dagli ingredienti genuini Nella casa del Grande Fratello è iniziata una nuova avventura, ma una concorrente verrà esclusa Elena, Giovanna Per scegliere chi vuoi eliminare, chiama da telefono fisso o invia un sms al 48421 Oppure utilizza il box interattivo Grande Fratello Eliminazione concorrente, prime nomination e nuovi ingressi Giovedì alle 21, su Canale 5 E in edicola ogni sabato, la rivista ufficiale di Grande Fratello Ma perché siete così cattivi? Da l'Inghilterra, un integrale buono, il digestive McVitties, anche al cioccolato Da dove arriva tutta questa vitalità? La trovi solo in LC1 Vital Test scientifici confermano che i suoi fermenti esclusivi arrivano vivi e attivi fino all'intestino Così ti senti in forma dalla mattina alla sera LC1 Vital, uno al giorno, ogni giorno, da Nestlé Pronto mamma, mi richiami? Con Team Famiglia, ogni volta che chiami da casa un telefonino Lo ricarichi di 5 centesimi al minuto Pronto mamma, che vuoi? Ma come che vuoi? Se mi hai chiamato te Prima, ma adesso mi hai chiamato tu Tessaro, ma che te credi che mamma e papà sono due scemi? Come close to me And talk to me Open your mouth And laugh and shout Da oggi con Tic Tac puoi vincere la mini torcia portachiavi Per scambiare messaggi con l'alfabeto Morse Scopri come averla subito Tic Tac, freschi momenti di piacere E voi chi siete? Quelli che puliscono la pista? No, facciamo parte della squadra olimpica di curling E vantati eh Ecco, ma perché proprio il curling? Lo so, lo facevamo fin da bambini Ah beh Ma giocare a calcio come tutti gli altri, no? San Paolo, meno banca, più passione Tutto si gioca sulla tecnologia Pneumatici Continental Supremazia tecnologica tedesca A loro basta la fantasia A te basta una telefonata Chiama e chiedi Carta Eureka La carta di credito più preziosa e sicura Per avere subito fino a 3000 euro Carta Eureka Fiditalia 199 77 99 77 L is for the way you look at me O is for the only one Comunque sia fatta la tua casa Se è una Scavolini C'è più gusto a stare in cucina Müller presenta Crema di yogurt bianco Müller Il bene dello yogurt Il piacere della crema E da oggi Il bianco E anche da bere Müller Fate l'amore con il sapore Il freddo screpola la pelle Garnier crea body repair Il primo latte crema riparatore Alla microlinfa d'acero Previene e combatte le screpolature Nutre in profondità Senza appiccicare Garnier body repair Il cerotto in crema Per pelli secche Garnier Se la faremo il giorno inizia il 27 gennaio Ma tu hai il fiato giusto Questo turano Sono preparatissima Ho perso qualche tipo L'ho preso io Eh non so Guarda la vera 27 gennaio Canale 5 Canale 5 Sì Sempre canale 5 Che gioia Zellic Circus Venerdì alle 21 Su canale 5 Tu devi usare questo moto giusto Altrimenti